Come voi siete generati da lei. La voce interiore, attraverso Roberta S., a cura di VB, guide. Allora, provate a mettere e a tacere quelle opinioni negative che potete avere sui vari argomenti e cercatene di positivi in ogni situazione. Provate, in ogni momento, a tirar fuori quello che di meglio potete tirar fuori da voi, anche dalla vostra mente, che non va disprezzata, ma va pilotata in un certo senso. E se l'aprirete nei confini del vostro spirito collegato alla vostra anima, vi accorgerete che poi, tutto sommato, dalla vostra mente potete imparare molto e potete comprendere tutto quello che ora vi spaventa e di cui non capite la ragione. Non si tratta di capire e comprendere un meccanismo, ma di accogliere nella vostra vita esattamente ciò che succede. Perché accogliere significa essere e quindi, per essere felici, non avete bisogno che accada qualcosa in particolare, ma necessitate piuttosto di ritrovare quello stato d'essere in grado di portarvi a vibrare ad una certa dimensione. Allora, liberatevi da quelle frustrazioni che vi vedono piccoli e limitati e provate a immaginarvi di fronte a quella grande luce che vi appartiene in ogni momento, come foste voi gli artefici stessi di quella luce. Perché in un certo senso è anche così quella luce che vi crea e allo stesso tempo creata da voi perché fa parte del vostro meccanismo esistenziale e dunque è generata da voi stessi come voi siete generati da lei.